La vita nuova, o come la definisce Dante, il libello, è un'opera dinamica, in movimento, in cui la prose è stata scritta tutta insieme dopo la morte di Beatrice, per il desiderio di ricordare poi l'amore come una presenza ancora viva, mentre le liriche sono state scritte in momenti diversi. Il testo più antico è databile a 1283, quando Dante aveva 18 anni, mentre il più recente risale a 1291, primo anniversario della morte di Beatrice. Questo permette a Dante di rivedersi da giovane adolescente, con gli occhi dell'uomo maturo ed interpretare quell'amore giovanile come una storia providenziale. Il suo intento principale, infatti, è quello di far risaltare il carattere salvifico di Beatrice. L'opera è un prosimetro, cioè un testo che alterna prosa e poesia, come si vedeva nella poesia provenzale dei canzonieri. Le liriche sono accompagnate da una spiegazione in prosa per raccontare e commentare i momenti più significativi dell'amore di Dante per Beatrice. La vita nuova è divisa in 42 capitoli e 31 liriche, 25 sonetti, 3 canzoni compiute, 2 incomplete e una ballata, e racconta le tappe principali di questo amore, in un arco di tempo che va dal loro primo incontro, quando aveva 9 anni, fino a poco dopo la morte di lei, anche se nella relazione è priva di alcuni riferimenti fondamentali. Per esempio Firenze è definita sempre come la città, e non c'è una precisa descrizione dei luoghi in cui si svolge la vicenda. Dopo il primo incontro a 9 anni, Dante rivede Beatrice solo 9 anni dopo e se ne innamora. Inizialmente si descrive come un'amante cortese che ammira da lontano l'amata aspettando qualche cenno da lei. Beatrice viene vista come un ideale di perfezione umana e apportatrice di beatitudine. Il suo saluto porta chi lo riceve ad avvicinarsi al paradiso, per questo rimarrà per Dante una vita spirituale anche dopo la morte. Per evitare i pedagogiti della gente viene usato il trucco della donna a schermo. Dante cioè finge di amare un'altra, ma anche Beatrice crede a questa finzione e non lo saputa più, facendolo sentire ferito e angosciato. Ad un certo punto Dante non aspetta più un saluto da parte dell'amata, ma si accontenta di cantarne le lodi. La morte di Beatrice non viene descritta ma annunciata, come una catastrofe universale, e Dante, dopo tanto pianto, è tentato di dimenticarla, dedicandosi ad un'altra donna che definisce solo come donna gentile, senza mai farne il nome. Quando Beatrice le compare in sogno, se ne pente e tutto il resto dell'opera sarà dedicato solo a lei, e nell'ultimo capitolo Dante si propone di dedicarle un'opera ancora più impegnativa, forse la commedia. Il quarantunesimo capitolo della vita nuova contiene l'ultimo sonetto di quest'ultima, dove Dante ci dice di averlo scritto per inviarlo a due gentildonne, che avevano richiesto qualche sua poesia. In particolare, possiamo trovare che è una premessa ancora più indefinita alla più alta glorificazione di Beatrice. in particolare, il sonetto è spiegato da Dante stesso, e lo divide in cinque parti, spiegandoci precisamente dove questi hanno inizio. nella prima parte, ossia i primi due versi, Dante ci comunica il viaggio del sospiro, nella seconda parte invece, terza e quarta verso, introduce l'intelligenza nuova. nella terza parte invece, compreso nella seconda strofa, ci comunica ciò che il suo pensiero scorge nell'imperieo, ovvero una donna onorata. nella quarta parte, prima terzina, afferma di non poter comprendere ciò che ha visto dato la debolezza dell'intelletto, con la conseguente introduzione della poesia dell'ineffabile. nella quinta e ultima strofa, chiarisce che il soggetto della mirabile visione è Beatrice. Adesso vorrei introdurre il sonetto chiamato Oltre la spera. questo sonetto ha rime secondo il seguente schema, A, B, B, A, A, B, B, A, C, D, E, D, C, E, sapendo che A, B ed E sono sconsonati. L'ultima poesia della vita nuova è la seguente. Oltre la spera che più larga gira, passa il sospiro che esce del mio cor, intelligenza nuova che l'amore piangendo mette in lui pur sullo tira. quando egli è giunto laddove disira, vede una donna che riceve onore e luce sì che per sospendore lo peregrino spirito la mira. Vede la tal che quando mi ridice, io non lo intendo, si parla sottile al cordolente che lo fa parlare. So io che parla di quella gentile, però che spesso ricorda Beatrice, sì che io lo intendo ben, donne mie care. Cominciamo ad analizzare questo sonnetto partendo dalla prima quartina. Nella prima quartina Dante scrive Il sospiro che esce dal mio cuore penetra oltre la sfera celeste, che ha circonferenza più larga. Lo tira di continuo verso l'alto una nuova capacità di intendimento che l'amore mette in lui attraverso il dolore. I tre concetti fondamentali di questa quartina sono i seguenti, il sospiro, la spera che gira e la parola nuova. Dall'interiorità più intima del poeta si produce uno slancio verso l'alto che raggiunge il paradiso. Il mezzo attraverso qui questi due estremi del discorso, cioè l'io profondo e l'alto cielo lo sono messi in comunicazione e il sospiro. Metodimicamente indicante il pensiero. A determinare tale slancio è l'amore attraverso la sofferenza. Quest'ultima non è più la ragione della scrittura, ma un suo movente. Perché la ragione è ora più impegnativa e alta, cioè seguire Beatrice con il pensiero verso l'Empireo. La spera gira. Secondo il sistema tolemaico si tratta del cielo cristallino o primo mobile, oltre il quale la dottrina cattolica poneva l'Empireo, cioè il paradiso. E questa è appunto la meta del sospiro dell'autore, a raggiungere Beatrice. Infine abbiamo una parola nuova, o nuova, che significa anche eccezionale, straordinaria, secondo il significato polisemico dell'aggettivo. Adesso analizziamo la seconda quartina, dove Dante scrive Quando esso è arrivato là dove desidera, qui stiamo parlando del pensiero, vede una donna, cioè Beatrice, che riceve onore e risplende, in modo tale che lo spirito pellegrino la contempla per la sua luminosità. I concetti fondamentali sono lo spirito pellegrino, i verbi di movimento e il simbolismo dietro queste quartine. La spiegazione per questo spirito pellegrino si fonda sul significato attribuito all'epoca alla parola pellegrino. Chiunque sia lontano dalla propria patria, e dato che è la vera patria di ogni cristiano è il cielo, chiunque sia sulla terra, la condizione di Dante che pensa Beatrice sarebbe quella paradossale, di chi va con il pensiero nella sua vera patria, cioè il cielo, soggiornandovi come uno straniero. Lo slancio verso l'alto è affidato a una serie di verbi di movimento, spesso in posizione forte, per esempio passa, esce, tira, così come il raggiungimento della metta, che è espresso con la parola giunto al centro del verso 5. Infine abbiamo le quartine che sono dedicate a rappresentare il percorso dal cuore del poeta alla donna in paradiso. Invece le terzine che vedremo descrivono il percorso inverso dall'esterno verso l'intimità interiore dell'io. Queste due parti sono tra loro collegate dalla ripresa di Vedela, verso 9, che rilancia enfaticamente Mira, nel verso 8. Va anche detto che i termini essenziali del percorso sono già presenti nei primi due versi. Oltre la spera, sospiro, core... Vediamo le ultime tre terzine. Qui Dante dice che la vede, cioè parla di Beatrice, la vede così perfetta che quando me lo riferisce io non lo capisco. A tal punto parla difficile al cuore sofferente che lo spinge a parlare. Lo so che parla di quella donna nobile, dato che menziona spesso il suo nome. Così che io capisco bene questo fatto, mie care donne. I tre concetti fondamentali in queste due terzine sono lo spirito, Beatrice e le donne mie care. Ad avere mandato lo spirito verso Beatrice è quel cuore stesso che ora, interrogandolo, non ne può capire in profondità le parole, cioè i segni dell'esperienza. Benché una cosa almeno gli sia perfettamente chiara. Esso parla di Beatrice, dato che ne pronuncia spesso il nome. La apparente e voluta contraddizione tra io non lo intendevo nel verso 10 e io lo intendo ben nel verso 14 provocò le obiezioni di Cecco Angioglieri che rivolse a Dante il sonnetto Dante all'Ighier, Cecco il tuo servo amico. E non è da escludere che il commento in prosa eccezionalmente circostanziato risponda anche all'esigenza di ribattere alle critiche dell'amico. In questa parte del sonnetto vediamo che Beatrice è la prima e unica volta che il nome compare in questo testo poetico della vita nuova. Ulteriore segno dell'eccezionalità di questo passaggio. Infine abbiamo Donne mie care che con esplicito rimando al pubblico prediletto coerentemente alla svolta di donne che avete intelletto d'amore. Ovviamente noi sappiamo che della nuova poetica fa parte organica la scelta di un nuovo pubblico. Cioè la consapevolezza di fondare una nuova letteratura. Il nuovo pubblico dovrà caratterizzarsi secondo la fondamentale dichiarazione di donne che avete intelletto d'amore tanto per l'esperienza diretta dell'amore quanto per la consapevolezza teorica del suo significato quale è dato nella tradizione e quale verrà riposto da Dante stesso. Bene, ora andremo a parlare dell'ultimo capitolo della vita nuova composto da Dante in cui esso dice Appresso questo sonetto apparve a me una migliorabile visione nella quale vedi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei e di venire a ciò io studio quanto posso siccome la sai veracemente sì che se piacere sarà di colui a tutte le cose vivono che la mia vita duri per alcuni anni io spero di dicerti lei quello che mai non fu addetto da alcuna e poi piaccia a colui che è sire della cortesia che la mia anima se ne possa agire a vedere la gloria della sua donna cioè di quella benedetta Beatrice la quale golosamente mira nella faccia di colui cui est per aumonia secola benedictus in questo caso possiamo vedere appunto ciò che dice e afferma Dante principalmente lui in questo ultimo capitolo ci conferma che non andrà più a parlare di Beatrice ora vediamo che cosa succede inizialmente l'opera si era aperta con la celebrazione della funzione della memoria ma ora l'autore preannuncia una svolta decisiva nella propria letteratura Dante si ritrova impossibilitato a continuare la propria attività di scrittore sul modello seguito fino ad ora ovvero rinuncia a parlare della donna amata almeno fino a quando non potrà dire di lei quello che mai nessuno ha detto di alcuna altra donna questo svolta avviene dopo una mirabile visione che è per protagonista ovviamente Beatrice come vi si può anche notare qua a destra vi è appunto l'immagine di Dante a Firenze che appunto intravede Beatrice e tramite questa visione lui appunto capisce che lui non tratterà più di Beatrice all'interno dei suoi componimenti che deve insomma in un certo senso smettere di parlare di questa grazie a tutti